L'ordinanza emessa dall'Ufficio Mobilità Sostenibile del Comune di Palermo lo scorso 17 luglio riguarda il lato mare e il sottopasso di Palermo. Successivamente andrà controllato anche il versante monte. Via Crispi dunque tornerà ad essere un cantiere almeno fino a ridosso dell'autunno, con nuovi disagi per la viabilità nei prossimi giorni. Probabilmente da lunedì, addetta dall'assessore alle opere pubbliche Salvatore Orlando, sarà infatti chiusa la bretella laterale tra via Leonardo Cacioppo e via Filippo Patti, ovvero dall'imbocco del tunnel venendo dalla cala fino alla traversa che porta al castello a mare. Successivamente invece si procederà al divieto di transito del tratto tra via Filippo Patti e via Samuzzo, a pochi passi dall'ingresso al porto, con inevitabili rallentamenti in vista delle migliaia di vacanzieri in partenza. L'imminente chiusura arriva a meno di un mese dopo la riapertura del sottopasso avvenuta lo scorso 3 luglio. Ed è dovuta alle indagini conoscitive che la ditta dovrà eseguire su caditoie e reti fognarie.